Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di S.A.T.Rex, io sono Zenzel e siamo qui su Call of Duty Infinity Warfare in modalità di zombie Iscrivetevi al nostro canale, ti ringrazio e commentate nei commenti cosa ne pensate di questa modalità Ora, il zombie funziona così, abbiamo attivato gli interruttori, ci sono dei portali in giro per spostarsi dall'altra parte della mappa Qui c'è una mappa di gioco Lo spalle da una prima andata voglio risparmiare i soldi più compravigliari, quindi mi vedi che tu usare i pugni Ora, qui c'è i vari distributori di potenziamento Ecco, poi bisogna sbloccare questa barriera, su te si guarda, non si può sento, quindi tra un po' la compriamo Sono fuori qualche zombie prima, poi la... Ecco, te ti do lo spalle per forza perché sei da fuori Eh, muori no? Capisiamo i punti adesso E poi vedremo se l'arma Se l'ha buona ma... Devo comprare insieme con una luta qua Con una pistola ma dovessi una quarta Oh! Ok, abbiamo comprato Sera 2 Sera 2 Siamo arrivati in una nuova mappa Il nuovo punto della mappa Io ce l'ho tornato alla Sera 10 Sono arrivati gli insomisi I giganti con la testa all'alieno che ho visto dire Mi hanno massacrato Ok Ok Ah! E muori Vediamo se posso prendermi un po' Oh ma eccolo qua Bello! Il bensin Il bensin Fissile a pompa Ma è molto difficile Perché mirate la testa da un colpo di un missile Oh! Grazie, mi ha dato il denaro È raro che mi dà il denaro eh Quindi Mi sa una bella cosa questa Molto rara la cosa del denaro Ok Dove saranno i zombie? Non ne vedo Sono in siro Quindi devo anche cercare un po' con la mappa Vediamo se non è rimasto ancora indietro No qua non ce ne sono Ecco questo portale qua dovete attivarlo Condirei i tutoriali che purtroppo vi devo guardare i video Perché sono anche nascosti Questa è un'arma Salutate la mia piccola amica Bella questa Eccoti qua Arriviamo fino alla scena 4 eh Cioè passiamo la scena qua 3-4 poi il video si conclude Non vuole farlo troppo Dopo le cose iniziano a precipitare Ecco questi sono gli occhialini speciali Che mi permette di vedere come in un vero film di una volta in bianco e nero C'è anche una storia qua insomma Un paio di ragazze insomma di teletrasportati All'interno Di un film Di un bassoide Che fa film horror E devono combattere appunto in questo film Infatti sono i 6 Ne vedete Si è una 3 Oh E' un pello La Bansy è un'ottima arma Se l'ha fatto in settec come ho fatto io prima E' bene perché dà ancora più grafica di colpi Questa non me la compro il proiettino E' un mio visuale La Bansy Oh vabbè Vedete mi lascio anche le munizioni Quindi non è che mi manete senza senso In pass'è qua Però in alcuni casi sono troppi zombie Mi conviene un attimino Ecco Vi da anche le cose infinite Io prima ho avuto le munizioni infinite per un'ondata intera Adesso le granate Quindi le lanciamo Ta 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 Guardate le ho finite le granate Guarda Per il tirannia quante le voglio Aaaaaah Maledetti Non posso farvi vedere gli zombie figati Perché arrivano l'ultima ondata Ed è un massacro il classico l'ondata Sono anche pigliato a parlare con voi Quindi non riesco a concentrarmi bene Allora Magari questo è utile Si si me li metto tranquillo E' tutto utile per me Tra poco arrivano anche i pagliassi esplosivi eh All'ondato 6 mi pare Vi li passo vedere Sto colpire Se si riesco a farli vedere Eccoli qua Sono arrivati prima del previsto Si fa praticamente Sono zombie vestiti da pagliasso Si fanno detonare Aaaaaah Perchè vedete dove sono tutti Eccoli Le emissioni al massimo Ok Grazie Almeno non spendo il soldi Andato a 6 Passiamo la sede a 6 E poi concludiamo il video Questo posto non è divertente se è tutto spento E beh Non attivare i generatori Ma solo che adesso non ne ho voglio Ci sono anche un po' più rinternati Mi porto qua in giro Mi troppo alla ghiasso dai Questo posto è molto carino dentro Voglio però Proviamo a vedere le montagne rosse E' vero Ah è vero Proviamo a vedere le montagne rosse C'era Qui la sessione qui si prendono Mi ricordo però Dove sono? E muori un po' Vada 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 Ti penso Il simbolo dell'infinito cosa mi dai? Granate infinite ok In che bella sta In che bella sta Ricordo le montagne rosse Di quali devo andare? Se è il trenino da prendere Ah è lì il trenino Oh cavolo Ti permettei Ricordi Da Prima Detterriamo Ecco Questo è l'interruttore Adete attivare La nota che mi è sempre apparente Io apri il portale per tornare Doveravate arrivare Ora devo salire sulle montagne, se l'avessere di qua andiamo, io non mi ricordo bene, è qui qui, qui c'è il biglietto, serve l'energia però quindi non posso usare un'arma, ho un'arma a cappa, questo è meglio. Ok, grazie. E finisse così l'ondata con la mia morte. Ok ragazzi, è tutto, abbiamo finito questo mondiale del show, vi torneranno altri video su zombie naturalmente per vedere altre cose molto più interessanti, ma magari siamo andati a presto di gioco. Qui tutto nel Sensor, da Suckface, ci vediamo al prossimo video, ciao, grazie per avermi seguito, alla prossima, ciao.